La rete di Savic sembrava aprire la strada alla vittoria della Fiorentina all'andata contro la Sampa allenata da Ciro Ferrara in quell'occasione, invece poi Kersticic e un autogoll di Rodriguez misero in difficoltà alla Fiorentina, salvata ancora da un colpo di testa di Savic. 2-2 dunque il risultato della gara d'andata tra Viola e Doriani. Oggi a seguire da vicino l'allenamento tutta la dirigenza Viola a partire dal patron Andrea della Valle del presidente Mario Cognigni per essere vicini alla squadra e per caricarla in vista della trasferta di Marassi. Anche il DS Pradel, il direttore tecnico Eduardo Massià sono rimasti accanto al gruppo a seguire l'allenamento che si è svolto nella prima parte sotto un sole praticamente estivo e si è concluso invece sotto un breve scroscio di pioggia. Domani ultimo allenamento, poi la partenza per Genova e quindi domenica alle 15 la sfida sul prato di Marassi. Le previsioni dicono pioggia, speriamo che sia comunque una bella partita. Le previsioni dicono pioggia, speriamo che sia comunque una bella partita.